Uno spettacolo suggestivo per aspettare in maniera incantevole il Natale, il presepe in una grotta naturale. È quello che si può ammirare ad Aquino nei giardini antistanti, la chiesa della Madonna della Libera, un'opera davvero suggestiva. L'idea è nata proprio per questa grotta, vedendo questo magnifico spettacolo naturale è venuta l'idea al gruppo di rimanere attivi, il gruppo di anziani che da dieci anni a questa parte sono iscritti al corso di ginnastica della palestra e poi con il contributo anche dell'amministrazione comunale, della Presidente del Consiglio Comunale, Giordani Evangelista, siamo riusciti ad allestire anche quest'anno questo magnifico presepe. Aquino dunque si veste a festa, prima le luminarie, poi il presepe nella grotta, nella città di San Tommaso. Ci si prepara ad accogliere il Natale nel migliore dei modi. Oggi vedere questo presepe allestito grazie alla perfetta collaborazione che si è instaurata tra il gruppo rimanere attivi, degli anziani e della Ludi Palestra e sotto legida della Presidenza del Consiglio dà un ulteriore spunto per davvero vivere in serenità queste feste. L'amministrazione si è fatta trovare pronta con un ricchissimo cartellone che in qualche modo accompagnerà le giornate dei tanti cittadini che saranno in città e di chi ci raggiungerà dei paesi limitrofi. Abbiamo pensato ai bambini, a un'offerta culturale importante, abbiamo pensato agli anziani e quindi tutti insieme ci incamminiamo mano nella mano a trascorrere un periodo natalizio davvero intenso ed un futuro, un anno che verrà decisamente migliore.